Ma guarda, fare i graffiti per me... non so dirti adesso perché sia così importante quello che so dirti è che sin da quando ero piccolo vedere queste scritte in giro per la città proprio mi causava una sensazione strana e sentivo proprio che dovevo farlo anch'io, no? Che quella sarebbe stata la mia strada I graffiti sono diventati importantissimi perché hanno formato tutto quello che ho fatto di conseguenza come sono diventato come persona, tutto quello che ti insegnano e anche il mio lavoro sono solo una conseguenza di quello che ho fatto con i graffiti negli anni quindi non so come dire, importanti o no, hanno reso ciò che sono Grazie